Ciao, nome? Massimiliano Sebastiani. Bene, che età? 35. Senti, mi hanno detto che a parte ti ho visto dentro i video della grande sfida e del gruppo sportivo, mi hanno detto che ora il 9 febbraio fai qualcosa di particolare, cosa è successo? Mi hanno detto che ero un atleta, mi hanno detto che sono stato bravo a fare delle cose quando facevo ginnastica o quegli altri. E quindi che cosa succede il 9 febbraio? C'è un premio. C'è un premio? E vieni premiato come migliore atleta? Io spero di sì, io ancora non me l'ho detto nulla, però ancora visto un anno, però... Ho capito. E senti, il premio dove si svolge questa manifestazione? Non so se dice la spaziovento perché domenica c'era un pranzetto che organizzava il proprio gruppo sportivo, ha detto che c'è per questi che fanno sport. Quindi un pranzo a spaziovento per il gruppo sportivo? Sì. E quando è il 9 febbraio? Sì. Va bene, grazie mille, vediamo il video allora. Sì. Lei si ricorda quando abbiamo fatto il video insieme? Sì. Bene, bene, allora vediamolo. Ciao. 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 Ciao.